Una discarica abusiva a cielo aperto è stata scoperta dalla Polizia di Stato all'interno del porto di Catania. Il titolare di una nota attività commerciale aveva infatti occupato in modo del tutto abusivo circa 145 metri quadri di demanio marittimo, dove è stata rinvenuta una massiccia quantità di rifiuti, alcuni anche speciali, provenienti dalla ristrutturazione dell'esercizio commerciale. Il responsabile, C.G., queste le iniziali, è indagato adesso per il reato di invasione di terreni pubblici, in questo caso di una rilevante parte di sedime portuale, e per il reato ambientale. L'area e il suo contenuto sono stati sequestrati penalmente, dati in custodia giudiziale allo stesso indagato, che dovrà poi provvedere a smaltire i rifiuti nei modi previsti dalla normativa di settore.